Ci sono queste battute ad andare avanti con una certa cosa. Dunque abbiamo una visita al Vaticano, veramente giuro che non so nemmeno chi c'è stato, come è stato, dove è stato, però è andato Nello insieme con Romano Ogidic, un nostro amico ma è soprattutto un artista, il quale hanno partecipato insieme, hanno visto una mostra di medaglie. Ora, guarda, è difficilissimo, devo dire che è molto difficile entrare nella città del Vaticano con una telecamera. Questi ci sono riusciti anche perché, eccolo qui, a questo punto io mi fermo perché vorrei che proprio Romano ci dicesse di che si tratta. Buonasera a tutti, siamo andati lì al Vaticano per il semplice modio che nella mostra ci sono delle mie medaglie, cinque medaglie esposte per cui Nello ha avuto la gentilezza di accompagnarci e il signore che vediamo lì che è il famoso ormai Bragalone. Bragalone di Vigo nel Lazio, che ci dà la possibilità di entrare dappertutto. Ci ha permesso di entrare con la videocamera, era l'unica presente per cui Ernica TV possiamo dire che ha l'esclusiva di questa mostra. Ecco, era nel Salone Sistino, dedicato il nome da Sisto IV, che è attivo alla Cappella Sistina, fa parte del giro dei musei vaticani. All'interno ci sono tre mostre praticamente e una era dedicata agli Amerani, che è una famiglia di incisori e di medaglisti del Settecento, che hanno lavorato dal 1700 esattamente al 1823. Una seconda parte della mostra, una seconda mostra, era sulle medaglie annuali del Papa Giovanni Paolo II. Ogni anno c'è un'emissione di una serie di medaglie, tutte quante di diametro di 44 mm, peraltro c'è questa regola fissa, e tra gli altri Veroi e Manfrini che hanno fatto bellissime medaglie. E dopo una terza parte, che era l'arte moderna della medaglia, organizzata dall'Associazione Italiana Arte della Medaglia. Facendo parte di questa associazione, io sono stato invitato a presentare delle opere e ho presentato cinque medaglie, alcune delle quali che rappresentano anche Alatri. L'abbiamo già viste, purtroppo l'abbiamo già viste. E adesso forse nel senso lo rivedremo. Lo rivedranno e si vedranno meglio. Questo è il Salone Sistino, che fa parte della Biblioteca Vaticana. All'interno del Vaticano, altra notizia, all'esterno ci sono due portali, fatti dal nostro... Gismondi, Gismondi, Gismondi di Aragni. Ma ecco, questa è la celebre medaglia. C'erano presenti anche le medaglie di... Come si chiama? Zanelli. Zanelli, eccolo. Sì, questo è Alatri. Sì, questo è Alatri. Questa è Alatri, la ricostruzione dell'agropoli. Sì, la ricostruzione dell'agropoli fatta dall'architetto giovenale nell'Ottocento. Ecco, là si vede anche un altro scultore di Firenze. C'era una grande partecipazione, anche qualitativamente importante. C'erano medaglie di Veroi, Manfrini, ma anche di Cascella, Arnaldo Pomodoro, Gio Pomodoro, Bodini. Alcuni di questi nomi sono anche conosciuti perché Gio Pomodoro e Arnaldo Pomodoro sono stati presenti a delle biennali qui di Alatri. Quindi la gente di Alatri, i cittadini di Alatri, hanno visto anche queste opere. E ecco, qui è la presentazione. E la presentazione è fatta dal cardinale Luigi Poggi, che è bibliotecario e archivista della Biblioteca Vaticana. Poi ha presentato il dottor Don Raffaele Farina, che è il prefetto della Biblioteca. E dopo Alteri e la dottoressa Silvana Baldi De Caro, che è presidente dell'IAM. Quindi una cosa veramente bella. E questa mostra è possibile ancora vederla? Questa mostra è fino a gennaio, dura fino a gennaio. Cioè è possibile andando a Roma? Visitarla sia entrando dai musei vaticani, perché fa parte di tutto il circuito dei musei vaticani, Cappella Sistina e il resto. Sia anche entrando dal Vaticano, dalla Porta Angelica, che porta Sant'Anna peraltro, e porta all'interno in questo ateo. E' bellissimo questo. E' stata, questa è decorata con, ecco vediamo lì il cardinale Luigi Poggi, è stata decorata dal De Angelis per lo più. E rappresenta un po' tutti i concili della Chiesa. Ecco sono affrescati lì, questa volta è lungo le pareti, con ritratti di cardinali pari. La cosa importante per me, anche molto bella, è che poi le medaglie qui esposte faranno parte del medagliere del Vaticano. Cioè rimarranno di proprietà ed esposte nel medagliere del Vaticano, che ha peraltro la collezione più numerosa al mondo, e anche la più importante. Per cui è un pregio, un onore mio, ma penso anche per Alatri, perché ci sono delle medaglie rappresentanti proprio Alatri, che figurano nel numero delle medaglie di presenza. E questa, forse abbia sfuggito mentre lo dicevi, per chi l'hanno organizzata? Così per caso? No, l'hanno organizzata perché è stato ritrovato, Giancarlo Alteri, dottor Giancarlo Alteri, ha ritrovato dei disegni antichi di questa famiglia degli Amerani, incisori in Roma, e quindi ha organizzato questa mostra presentando praticamente tutto il lavoro che si fa per preparare una medaglia. Quindi ci sono i disegni preparatori. Ecco, queste sono alcune mie medaglie. Questa è il Monte Cassino, questo è il Balbi. Questo è il Balbi, sì, questa è la medaglia del Balbi. Questa è di Alatri. Questa è la celebre di Alatri. La Ciociara. La Ciociara. E questa è l'ultima, è quella del Miracoli Eucaristici, l'ossa incarnata sul Miracolo di Alatri, Lanciano, Siena e Siena. Qui ci sono anche altre medaglie. E dicevo che con questi disegni ritrovati sono stati poi messi in esposizione i coni, quindi tutte quante le cose che servivano per battere la medaglia, e poi la medaglia antica che è approfittata, quindi è una cosa culturalmente anche importante. Ho capito. Dei pezzi notevolissimi. E questo noi dobbiamo farti tanti tanti auguri, caro Romano, perché questo ci fa tanto piacere, che a un certo punto questo nome di Alatri viaggi, viaggi il più possibile, e adesso è arrivato fino a un punto abbastanza alto per quanto riguarda questo specie, questo tipo di… Questo è l'amico, è Zanelli. Sì. Eccolo, questo è Zanelli. Siamo qui di fronte proprio alle sue medaglie. Le medaglie erano esposte qui in questi espositori, peraltro molto eleganti, quindi non troppo numerosi. Zanelli l'abbiamo avuto ospite qualche settimana fa qui a lunedì sera, ci ha spiegato un libro soprattutto. Sì, noi facciamo vedere anche le sue medaglie, soprattutto quelle fatte per Alatri, ma ci spiegò e ci presentò un libro. Ecco, queste qui sono, che si vedono, sono le medaglie annuali di Giovanni Paolo II, il Papa attuale, per cui tutte le medaglie di 44 mm di diametro hanno nella faccia A il ritratto del Papa e nel lato poi B uno degli avvenimenti più importanti nell'arco dell'anno. E questi sono i coni? Questi sono i coni, proprio degli amerani. Ecco, ci sono, eccoli, dei disegni preparatori. Proprio venivano poi realizzati questi coni che poi andavano a premere su un dischetto. Praticamente la medaglia nasce in due modi, o coniata o bronzo fuso. Coniata viene preparato un dischetto che è di metallo più morbido del bronzo e viene poi battuta, premuta nelle due facce, per cui viene compressa e viene realizzata la moneta nelle due facce. L'altro modo invece è il bronzo. Il bronzo, che ogni medaglia poi è un numero singolo, possiamo dire, perché è una fusione ogni medaglia. Io l'ho vista un anno, un tanto tempo fa, l'ho vista proprio a, e mi piacque tanto questo discorso, a Norimberga, dove avevano riproposto in una piazza la loro zecca antica. E era possibile riceverle, lo facevano con il punzone, ma era possibile ricevere questa medaglia? E c'era una fila interminabile, perché ognuno per suo venire voleva questa medaglia che veniva congnata lì per l'inzio. E' anche bello vedere come viene realizzata, perché molti non sanno ovviamente la difficoltà, anche la tecnica, per arrivare poi a fare una medaglia peggiore. La mostra, ecco, è chiamata decima mostra della medaglia e placchetta d'arte, il medallo e la forma, salone Sistino. E questo significa che possiamo andarla a vedere, anche perché sarebbe bellissimo vedere questo salone. Magari io vorrei andarci col professore, col nostro professore lì, perché magari riuscirebbe a spiegarmi qualcosa, perché io non ne capisco niente d'arte, mi riferivo al nostro professore Frusone, che sta qui e osserva attentissimo, soprattutto, la struttura della sala. Mi sto sbagliando? No, non stavo sbagliando. No, guarda attentamente. Eccolo qua. Bene, possiamo tornare a noi? Quando? Sì, eccoci qua. No, anche perché abbiamo fatto vedere tutte le medaglie e questo splendido... Sì, ma volevo soltanto tornare un attimo con Romano Orgini, il quale è un appassionato sia di pittura che di medaglie, non si riesce a capire se sia più appassionato delle medaglie che della pittura. Forse ce lo potrebbe dire a lui. E' probabilmente il lavoro maggiore che mi sta prendendo la scultura, per cui la scultura sto realizzando attualmente delle belle opere, anche grandi, ci vorrà del tempo, quasi un anno, che si vedano un po' realizzate, ma ultimamente mi sono invece adoperato a fare delle placchette d'arte. La placchetta è così chiamata perché manca una faccia, la seconda faccia è liscia. E sono delle placchette d'arte con i ritratti, ritratti di tutti i personaggi famosi di Alardi. Fino adesso ne ho realizzati dieci. Dieci. Guarda un po' se ci sto io. No, non ci stai tu, però c'è ad una che ho realizzato l'anno scorso, c'è Alberto. C'è Alberto, bene. Bene, noi dobbiamo ringraziare della sua presenza Romano Orgidi. Quanta è la prossima edizione, cioè, di qualcosa di tuo? La prossima edizione è alla Biennale d'Arte che si inaugurerà il 13 novembre, il 13 dicembre, perché farò parte del numero invitato, dei artisti invitati a esporre le proprie opere in questo Biennale. Ah, ci sei anche tu a quel numero? Io ce l'avevo l'elenco, io ce l'avevo qua un elenco, è bello ricordarlo se riesco a trovare il foglio. Il 13 dicembre c'è l'inaugurazione, ci sono 24 espositori, praticamente 12 artisti più anziani. Ecco, vi leggo, vi leggo tanto per ricordarceli. Poi, mentre i più giovani, dove ci stai anche tu, Enzo Arduini, Franca Battisti, Giuseppe Belli, Anna Maria Fardelli, Mariano Filippetta, Marco Gizzi, Vincenzo Ludovici, Sofia Nicoletti, Romano Orgiti, Eleonora Pucceddu, Fausto Roma, Miria Tagliaferri ed Emanuele Venti. Cioè, questa mostra... Sicuro tra questi, anche se poi sono 25 anni che sto nel mondo dell'arte, tra la pittura e la pittura. Ci sta sempre, no? Quando uno sta lì, vorrebbe stare un po' più sopra. È umano, è umano, però girando nel mondo dell'arte, veramente, si scoprono dei grandi talenti e si vede gente veramente brava, anche modesta, che veramente mette in mostra delle opere bellissime. Ne abbiamo avuto conferma in questa mostra della medaglia, veramente dei talenti notevolissimi. Bene, allora noi facciamo tanti auguri in bocca al lupo, cioè, per questa mostra. Ci rivediamo la data di questa. 13 dicembre. Il 13 dicembre, Santa Lucia, ricordiamoci questa Santa Lucia, perché a Santa Lucia poi incomincia ad allungarsi le giornate e già abbiamo un pizzico di speranza in più per andare avanti. Bene, noi ringraziamo di questa presenza di Romano Orgiti. Grazie a voi. Le medaglie sono belle davvero. Le medaglie sono belle. Benissimo, grazie. Buonasera, grazie a voi. Ciao. Andiamo avanti e dovremmo parlare della festa, delle varie feste.